È stata una vera e propria rivelazione all'Africa Eco Race nella categoria Moto Paolo Lucci di Castiglion Fiorentino è riuscito a portare a casa un quarto posto finale sfiorando il podio che inizialmente gli era stato anche attribuito. Dopo Fabrizio Meoni dunque anche Paolo Lucci si iscrive nella grande tradizione di Castiglion Fiorentino in campo motociclistico. L'esperienza forte, bella e sicuramente da ripetere. Comunque stiamo già lavorando per il prossimo anno. C'è già l'impegno per la prossima gara. Sì, sì, dobbiamo decidere cosa però sicuramente l'obiettivo è quello. E tra gli invitati alla festa organizzata dal Team Rossi 4x4 c'era anche il figlio di Fabrizio Meoni, Gioele. Sapere che con cittadini o comunque sia paesi limitrofi perché Castiglion Fiorentino e Arezzo è come fosse la stessa cosa arrivano a Lago Rosa e lo fanno trionfando secondo me comunque è sempre un'emozione per me anche se appunto personalmente prima o poi ci andrò anch'io magari piacerebbe anche a me insomma sopra una moto. Quindi adesso sono contento per Paolo ma chissà che magari una volta gli darò una mano per arrivare laggiù insomma. Quindi questo è il tuo sogno tra virgolette nel cassetto? Ah, credo che insomma prima o poi lo realizzerò, dai.